oh questo è un tizio enorme ok vediamo come va cazzo quel lenergumero mi ha appena washottato è impossibile sono almeno di livello 20 beh indovina stronzone ti sei appena fatto un nemico ora vado a farmare ucciderò una marea di nemici prenderò anime migliorerò la mia armatura e la mia spada livellerò le mie stat per prenderti a calci in culo vai con la musica nelle ore successive mi allenai duramente misi da parte una quantità innumerevole di anime e feci un sacco di punti esperienza tutto questo per dimostrare che dark souls non è un gioco difficile chiunque avrebbe conosciuto il nome di bene il cavaliere l'impavido il migliore il più forte del mondo con una nuova spada una nuova armatura cazzo sei e più punti esperienza nessuno l'avrebbe fermato va bene testa di cazzone sono tornato e sono più forte che mai ho una nuova armatura ho temprato la mia spada e ora sarò almeno di livello 30 preparati a morire chiunque avrà avare vieni Grazie a tutti.